Puoi prendere una banconota in prestito e fare questo gioco un colpettino qua e far passare la penna da una parte all'altra così è bene passata e poi guarda, basta davvero un attimo che esattamente da dove è entrata esce e puoi far controllare la banconota la penna e far controllare anche perché è una normale penna che scrive il gioco della banconota